Salve a tutti, mi chiamo Caprini Gianluca, sono il team manager dell'SPQR Culinary Team, un team autonomo nato dalla passione di un gruppo di ragazzi che lavorano insieme per tante ore al giorno e abbiamo partecipato per la prima volta ad un concorso a squadre all'Internazionale d'Italia di Massa Carrara. Ci siamo qualificati con un buon punteggio di 81,67 e abbiamo preso la medaglia d'argento. Il team è composto da Riccardo Capogrossi, chef, Angelo Biscotti, chef, Mauro Bellomo, chef pasticcere, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.